Ora in questa Europa League, peccato per l'eliminazione, intanto però sono 17 partite, questa Juve cresce sempre di più. Sì, meno male, siamo in crescita, abbiamo cominciato così così e veramente stiamo facendo molto bene. Però manca molto per pensare in alto, quindi dobbiamo continuare così, concentrati, tutti uniti, per magari poter vincere qualcosa. Poi pensavi magari che oggi ti prendessi un turno di riposo, invece hai voluto giocare lo stesso o il mister ti ha chiesto di giocare, com'è andata? Un turno di riposo solo a Chievo perché sono squalificato, però qua non ho mai pensato di non giocare. È una partita molto bella contro una grande squadra e voglio giocare sempre. Un altro grande segnale, a mio modo di vedere, è il fatto che entra un ragazzo della primavera, abbiamo visto Sonos, abbiamo visto Camiller, abbiamo visto Gian Donato, oggi Gianetti. E fa sempre bene, questo perché forse voi li mettete anche in condizione, anche una pedina con non molta esperienza, di entrare e fa subito bene perché questa Juve è una macchina che va molto bene. Sicuramente aiutiamo loro, però loro sono molto bravi, hanno carattere, hanno la voglia di aiutare la squadra, di aiutare la Juventus, di venire alla prima squadra. Quindi complimenti a loro perché io lo vedo in allenamento ogni giorno e sono veramente molto bravi. Grazie.